Non lo credo bene, Solofra studia, lui no? No, Solofra sogna, non studia, no. Solofra sogna, è una prima della classe. Solofra non ha tic, non si veste come la figlia di uno spacciatore, non si mette i capelli alla boicana, non si mette le scarpe della sorella che puzzano. Solofra sogna è pulita, interrogata, si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogni. Ripete tutto quello che mi è uscito di bocca, senza pause, tutto quello che c'è scritto del libro. Alla fine le metto nove, ma vorrei tagliarmi la ruta. Solofra sogna, è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Invece Cardini no. Cardini è la prova di quanto valeamo noi. E cosa facciamo noi per Cardini? Facciamo i pirati, ma Cardini lo boccio. Lui Cardini, non l'abbiamo più visto. Cosa? E che Cardini non è una persona per bene. Ma sei all'assente? Io stacco tutto, io gli stacco la testa. A Cardini! E cosa facciamo noi per Cardini, eh? E cosa fa Cardini per noi? Letter Anonime.